Fino a che età si può fare radio? E questa è la domanda che mi ha fatto Andrea, un utente, un allievo, una persona che ha conosciuto Radio Speaker tramite vari corsi che ha fatto. Mi fa questa domanda esplicita via mail e la risposta è molto semplice e pratica. Infatti, quello che ci contraddistingue è che abbiamo diversi anni di esperienza e quindi abbiamo avuto a che fare con tante persone di tutti i tipi, di tutte le età. Fino a che età si può fare radio? Fino a che età conviene mandare una demo radiofonica? Caro Andrea, non c'è un'età. Anzi, sono tanti gli speaker che arrivano a fare questo mestiere ad età adulta, molto adulta. Basta considerare che tantissimi degli speaker radiofonici delle radio nazionali hanno più di 50 anni. Quindi non è necessario essere giovani o dei ragazzini senza nulla da perdere per poter provare questa carriera, ma ti faccio degli esempi concreti di allievi che hanno frequentato i nostri corsi ad un'età avanzata, diciamo tra virgolette, non me ne vogliano, e che ora lavorano in radio. Il primo è Felice Fulco, che nella vita fa l'insegnante e l'odonto tecnico, e ha più di 50 anni, forse più di 60, e adesso è uno dei conduttori di N100, che è una radio molto seguita qui a Roma. Un'altra è Alessandra Aureli, che non è certo una ventenne, e che adesso lavora a Radio Italia anni 60, una nostra allieva, ed entrambi, per esempio, hanno prodotto poi programmi per noi, per programmi radiofonici.it, quindi le loro voci hanno suonato su tante radio in Italia, e hanno cominciato due o tre anni fa facendo uno dei corsi di radio speaker. Un altro esempio è Renato Tradico, anche lui gioielliere, dopo tanti anni è venuto da noi dicendo io ho questa passione per la radio, ho voglia di ritornare a fare radio, beh, c'è riuscito, perché poi per anni ha lavorato, dopo i nostri corsi, a Radio Reporter a Milano. Quindi non c'è un'età per cominciare a fare questo mestiere, anche perché ti svelo un segreto, la voce non invecchia, matura, ma non invecchia mai.